Buona giornata, la prima edizione del TV giornale di Telestense di questo giovedì 14 aprile. Come sempre tante le notizie di cui ci occuperemo in primis di Covid ma anche di un convegno tenuto si ieri mattina in CNA in cui si è parlato del ruolo e della funzione degli hub vaccinali. Parleremo però anche dell'imminente ormai vicinanza di Pasqua e Pasquetta anche con le iniziative che si terranno in città. Ben otto mostre presenti appunto a Ferrara durante il ponte. Ci occuperemo anche di teatro con le anticipazioni legate al Sacro Vivaldi, prossima opera che andrà in scena al Comunale di Ferrara e che verrà raccontato da prima della prima in TV, il programma di Telestense appunto in onda dedicato proprio a queste tematiche. Ma apriamo subito parlando di un altro tema serio e problematico, quello della siccità, perché in Emilia Romagna viene anticipata al mese di aprile l'applicazione del deflusso minimo vitale estivo che consentirà ai consorsi di bonifica e alle aziende agricole di prelevare e accumulare più acqua in caso di precipitazioni. Sentiamo. L'applicazione del cosiddetto deflusso minimo vitale, il DMV estivo, sarà anticipata ad aprile per consentire ai consorsi di bonifica e alle aziende agricole titolari di concessioni dell'Emilia Romagna di prelevare e accumulare più acqua in caso di precipitazioni. E' quanto stabilito dalla regione Emilia Romagna per il deflusso minimo vitale, si intende la quantità minima di acqua che contribuisce a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche dei corsi d'acqua e dei fiumi, nonché il mantenimento delle tipiche condizioni naturali locali. Quando viene fatto un prelievo da un corso d'acqua, va comunque garantita sempre la presenza di un quantitativo minimo necessario per l'anticipo del DMV, spiegano l'assessorato regionale, non arreccherà danno agli ecosistemi, poiché le portate attualmente presenti nei corsi d'acqua regionali sono analoghe a quelle tipiche del periodo estivo. La situazione idrologica in Emilia Romagna resta la medesima. Il periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 ha visto precipitazioni in medie regionali inferiori alla norma, confrontabili con gli anni 2017-2019 e lievemente superiori a quelle registrate nelle annate più critiche, il 2002, il 2007 e il 2012. L'accumulata di precipitazione media regionale è risultata notevolmente più bassa delle attese climatiche, configurandosi come sesto valore più basso a partire dal 1962. Anche l'andamento delle temperature ha manifestato oscillazione, rialzi evidenti nel mese di febbraio 2022, successivi picchi negativi e positivi nel successivo mese di marzo. L'andamento delle portate osservate nel trimestre gennaio-febbraio-marzo 2022 si può in pratica confrontare con l'andamento medio del periodo maggio-giugno-luglio e le previsioni meteorologiche nei prossimi 15 giorni e per il mese di maggio, che non escludono possibili episodi di pioggia, non saranno in grado di modificare l'attuale situazione di carenza idrica. L'acqua attesa potrà essere comunque prelevata e accumulata senza compromettere lo stato complessivo dei fiumi. E intanto dopo oltre due mesi di estenuante braccio di ferro tra agricoltori e imprese di trasformazione, è stato raggiunto l'accordo sul prezzo del pomodoro da industria per la campagna del Nord Italia del 2022. Soddisfazione da parte delle organizzazioni agricole, ma tutti i particolari li vediamo nel servizio. Dopo una lunga e intensa trattativa con la parte agricola, è stato raggiunto l'accordo quadro per la gestione dalla prossima campagna di trasformazione del pomodoro nel bacino Nord Italia. La lunghissima trattativa sul prezzo del pomodoro si è chiusa a 108,50 euro a tonnellata con la firma dell'accordo quadro tra le OP, ovvero le organizzazioni dei produttori e l'industria. L'accordo prevede la conferma dell'impianto contrattuale del 2021 per la parte normativa con un prezzo di riferimento che, con un incremento di oltre il 18%, il più elevato di sempre, fa registrare un aumento di circa il 40% in soli quattro anni. Secchi i commenti delle organizzazioni agricole. C'è soddisfazione per il patto raggiunto, ma non entusiasmo, sottolinea il presidente dei produttori di pomodoro di Confagricoltura Emilia Romagna, Giovanni Lambertini, che non nasconde le preoccupazioni per le bizzarrie del clima su tutta la grave siccità che attanaglia il territorio e che renderà oltremodo complicata la campagna estiva con l'incognita della scarsa disponibilità d'acqua. Pesa, aggiunge inoltre Lambertini, la perdita di superfici investite nel bacino del centro-nord intorno al 15-20% in meno dovuta all'estenuante braccio di ferro oltre due mesi tra agricoltori e imprese di trasformazione, che ha via via allontanato molti produttori, portandoli ad optare per una cultura alternativa. Un accordo che, malgrado il grave ritardo con il quale è arrivato e il fatto che non copra del tutto i costi di produzione, dà almeno la certezza di un prezzo di riferimento alle aziende agricole, ha commentato il presidente di Coldiretti regionale Nicola Bertinelli, aziende costrette ad affrontare rincari vertiginosi per tutte le operazioni culturali e con la preoccupazione di una difficile gestione delle risorse idriche per durare del clima siccitoso. Per Coldiretti sarà fondamentale sempre più una cabina di regia, mettendo insieme imprese, cittadini, associazioni e istituzioni per ottenere una migliore collaborazione sulle azioni comuni, per promuovere e valorizzare l'intera filiera del pomodoro che produce e trasforma un prodotto di altissima qualità in un territorio ben definito. Ha concluso il numero uno della Coldiretti regionale. E parliamo di Covid adesso, anticipando però una notizia a livello nazionale arrivata proprio questa mattina, che evidenzia che negli ultimi sette giorni c'è una lenta discesa dei contagi pari almeno 6,5%, stabili i ricoveri ordinari e le terapie intensive, mentre giù i decessi del meno 11,4%. Ma alla vigilia delle festività pasquali, se da un lato tutti gli indicatori certificano una fase di plateau, la circolazione del virus rimane ancora molto elevata, oltre 1,2 milioni di positivi, oltre 60 mila casi al giorno e un tasso di positività dei tamponi antigenici al 15,5%. Indispensabile, dunque dichiarano, evitare assembramenti e soprattutto utilizzare le mascherine al chiuso anche durante le festività. Questo appunto ha la dichiarazione del Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotti, in occasione del monitoraggio indipendente rilevato dal 6 al 12 aprile. In particolare, per la seconda settimana consecutiva, si rileva una lieve riduzione dei nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 438.751 contro i 469.479 della settimana precedente, numeri condizionati da situazioni regionali e locali molto eterogenee. E torneremo su questa notizia più tardi nel TV giornale di questa sera, ma intanto per quello che riguarda l'ultimo bollettino nel Ferrarese si registrano ancora due decessi e 433 nuovi positivi. Vediamo. Due decessi e 433 nuovi positivi. E' questo il bilancio dell'ultimo bollettino Covid nel Ferrarese. Le persone che hanno perso la vita sono un uomo di 92 anni e una donna di 86. A livello regionale, sono 5.472 in più rispetto al giorno precedente, i casi di positività su un totale di 24.748 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.327 molecolari e 11.421 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,1%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,6 anni e i decessi a livello regionale sono 14. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. In Emilia-Romagna sono 3.777.407 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 94%. Le terrestri dosi fatte sono 2.762.674. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 41 con un'età media di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.325 con un'età media di 76,2 anni. I casi attivi, cioè malati effettivi, sono 58.963. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.597, il 97,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.262 in più rispetto al giorno precedente e raggiungono quota 1.262.646. Intanto ieri mattina alla sede di CNA Ferrara ha ospitato il convegno agli hub vaccinali, un sistema rivolto ai cittadini dove sono state presentate appunto alle persone presenti le attività svolte nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19 negli hub di Argenta, Cento, Codigore e Comacchio e in quello di Ferrara Fiere. Diversi relatori al convegno, oggi sentiamo le dichiarazioni del direttore generale Ausl Ferrara, Monica Calamai, del comandante del COA, il generale Claudio Gabellini, della direttrice del servizio formazione e aggiornamento Ausl, Marilena Baciglieri e del medico volontario Carlo Zanotti. Ci troviamo alla CNA, oggi un convegno in cui si è fatto il punto degli hub vaccinali, è stato un anno sicuramente importante, ovviamente rimane operativo quello di Ferrara Fiere. Iniziamo intanto facendo un bilancio di questo anno, come è stato, quali sono state anche le difficoltà ma anche i punti di forza di questa annata? Sì, è stato un anno straordinario, straordinario ovviamente perché eravamo all'interno di un percorso pandemico che tuttora è presente e quindi abbiamo dovuto programmare con una capacità di flessibilità, diciamo così, e anche di invenzione di idee diverse rispetto al nostro standard tutta la programmazione del piano vaccinale all'interno di un percorso già faticoso perché avevamo in corso la terza e poi c'è stata la quarta ondata quindi in parallelo alla gestione diretta della pandemia abbiamo dovuto programmare questo evento straordinario mai in vita mia avrei pensato che è un piano vaccinale di massa, di popolazione che chiaramente proprio pensando a questo abbiamo pensato all'impossibile, delle volte riesci diciamo così a fare cose straordinarie pensando alle cose improbabili e quello che ritiene impossibile perché vaccinare e fare un piano vaccinale di massa e quindi di popolazione non è la stessa cosa di quello che eravamo abituati a fare cioè il piano vaccinale calendarizzato per l'infanzia piuttosto che lo stesso piano anti-influenzale dove spesso si stentava a arrivare a quelle percentuali richieste anche a livello centrale cioè dal Ministero l'Aeronautica Militare sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale ecco ci può raccontare come è stato questo anno le difficoltà ma anche ovviamente le soddisfazioni raccolte dal vostro contributo ma in effetti l'Aeronautica Militare in quest'ultimo anno è stata impegnata su due fronti se vogliamo su un fronte nazionale quindi a livello più ampio perché è stata responsabile di organizzare molteplici attività al servizio della collettività penso per esempio ai trasporti in biocontenimento penso ad andare a reperire materiale sanitario ovunque nel mondo penso ad aver organizzato l'aeroporto di pratica di mare trasformandolo nel lab principale dove ricevere i vaccini conservarli in attesa della distribuzione penso alla distribuzione di questi vaccini e anche a livello locale quindi l'Aeronautica Militare ha svolto il suo compito attraverso il Comando Operazione Aerospaziale nel senso che il Comando Operazione Aerospaziale ha reso disponibile una consistente aliquota di personale per compiti di natura amministrativa e di natura logistica all'interno del Lab Ferrara Fiera è stato il nostro modo di essere ancora più vicini alla popolazione di essere vicini alla collettività in questo momento tragico ma che ci ha dato la maniera di rinsaldare ulteriormente i legami che ci sono fra la gente azzurra e la popolazione estensa parliamo dunque del ruolo che ha avuto la formazione è stato molto importante ecco ci può riassumere come si è proceduto da questo punto di vista il servizio interaziendale formazione e aggiornamento ha supportato tutte le fasi della campagna vaccinale fornendo concorsi a distanza come la normativa ci ha richiesto tutte le competenze di base gli strumenti e anche la possibilità di somministrare i vaccini in sicurezza quindi una formazione a 360 gradi a tutti gli operatori con continui aggiornamenti aggiornamenti richiesti a livello ministeriale a livello regionale ma anche a livello aziendale e con la ripetizione di corsi per poter consentire a tutti i nuovi operatori che entravano nella campagna vaccinale i volontari di poter acquisire queste competenze parliamo dunque dell'apporto che hanno dato i medici volontari sicuramente un apporto importante per quello che riguarda la campagna vaccinale come è stato insomma questo contributo e che valutazione dà insomma di questo anno ma l'apporto mi è sembrato significativo perché sono stati oltre 30 i medici volontari in gran parte ex dipendenti dell'USL che sono stati coinvolti nella campagna vaccinale e credo che sia questa la dimostrazione che insomma i medici nel loro insieme sia quelli direttamente impegnati in attività lavorative ma anche quelli in pensione come me sentono ancora lo spirito di volere dare un contributo importante a questa che è una battaglia civile che tutta la comunità ferrarese e nazionale deve cercare di vincere adesso invece ci occupiamo del ponte di Pasqua e Pasquetta ci saranno diverse iniziative a Ferrara tra cui otto mostre a disposizione di pubblico appunto ferrarese ma anche dei tanti turisti sentiamo quale aperture straordinarie a Pasqua e fino al primo maggio per il castello estense e per i musei che fanno capo al comune di Ferrara da domenica 17 aprile giorno di Pasqua a domenica primo maggio infatti saranno aperti tutti i giorni senza osservare il giorno di chiusura il castello estense che ospita la mostra il sogno di Ferrara ad Elchi Riccardo Mantovani e nella sala dei comuni la mostra dossier De Pisis il silenzio delle cose il padiglione d'arte contemporanea con la mostra diciannovesima biennale donna out of time ripartire dalla natura palazzina Marfisa d'Este con la mostra della fotoreporter Arianna Di Romano oltre lo sguardo palazzo Bonacossi che ospita fakes dal ceodossena ai falsi modigliani e casa di Ludovico Ariosto con il volto e lo sguardo di Giorgio Bassani di Giorgio De Canino oltre al museo Schifanoia e al museo della cattedrale confermiamo l'utile iniziativa delle aperture straordinarie spiega l'assessore Marco Guglinelli per intercettare il grande interesse manifestato dal pubblico per la ricca offerta museale di Ferrara interesse dimostrato dai numeri quasi 143.000 presenze nel 2021 a cui si aggiungono numeri molto incoraggianti nel 2022 come le quasi 13.000 presenze al castello dall'avvio della mostra di Adelchi Riccardo Mantovani 5 marzo i 13.469 visitatori a Palazzo Schifanoia dall'inizio dell'anno con un trend in crescita dai 2.995 di febbraio ai 4.533 di marzo sono otto le mostre attualmente aperte al pubblico viene offerta una ricca scelta e diverse opportunità che sanno intercettare e cogliere sia il valore degli autori sia gli scenari e i contesti storici in cui sono esposte le loro opere e dopo le mostre andiamo a teatro perché il prossimo 23 aprile si terrà al Comunale di Ferrara il Sacro Vivaldi musica sacra appunto di Antonio Vivaldi l'opera sarà al centro del prossimo appuntamento di Prima della Prima in TV di cui ne vediamo un'anteprima benvenuti a Prima della Prima quest'oggi ci occuperemo di un progetto speciale del Teatro Comunale di Ferrara si tratta di Sacro Vivaldi è un concerto per immagini accanto al concerto che prevede l'esecuzione del Dixie Dominus e dello Stabat Mater di Vivaldi ci sarà la proiezione di immagini pittoriche che verranno commentate da Vittorio Sgarbi i protagonisti dell'esecuzione saranno il direttore d'orchestra Federico Maria Sardelli grande specialista di Vivaldi il core dell'orchestra e l'Accademia dello Spirito Santo i solisti sono Silvio Affrigato Aurora Fagioli Lesso Tosi e Mauro Borgioni per parlare di questo progetto Sacro Vivaldi siamo qui con la professoressa Francesca Greppi che ci presenterà i nostri magnifici studenti e la scuola dalla quale provengono oggi siamo con la classe terza G sempre del liceo delle scienze umane Carducci di Ferrara e come le classi precedenti anche questa classe appartiene al progetto musica e spettacolo insieme a me li accompagnano anche i docenti Annabella Ferroni e Samuele Muscolino bene direi che siamo pronti per iniziare questo viaggio nella musica di Antonio Vivaldi detto il Prete Rosso ed Enrica Balestra e Filippo Mazza ci racconteranno un po' di Antonio Vivaldi e del perché si chiamava veniva chiamato il Prete Rosso diciamo che conosciamo poco della vita e degli studi del compositore veneziano Antonio Vivaldi sappiamo che era il figlio di un violinista della Basilica di San Marco e veniva chiamato appunto il Prete Rosso principalmente per il colore dei capelli e per il fatto che avesse gli ordini sacerdotali Vivaldi poi però fu dispensato dal dire messa per dei problemi di salute Vivaldi risiedette principalmente a Venezia dove già dal 1703 operava presso l'ospedale della Pietà sempre a Venezia svolgeva l'attività di operista e presso il Teatro Sant'Angelo anche l'attività di impresaio fu proprio l'attività di operista di Vivaldi che lo portò a doversi spostare innumerevolmente non solo dall'ospedale della Pietà ma proprio dalla città di Venezia stessa infatti Vivaldi compì innumerevoli viaggi tra cui il braggio a Vienna che poi in realtà fu il suo ultimo viaggio perché Vivaldi morì in estrema povertà a Vienna nel 1741 ovviamente in onda nei prossimi giorni ma adesso invece siamo in conclusione vi ricordo Telesensio.it e i nostri canali social Facebook Twitter YouTube e Instagram per ulteriori aggiornamenti per quello che riguarda invece l'appuntamento col TV giornale vi rinnovo come sempre l'edizione del 19.30 questa sera per cui grazie per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata Grazie a tutti